Kinesis è un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus Plus che vede l'orientale con numerosi partner contribuire a un lavoro per condividere conoscenze e superare un grande problema, fenomeni di spopolamento di aree rurali e provinciali. Kinesis porta un contributo di numerosi partner con l'idea che la conoscenza e la condivisione di conoscenze può aiutare a invertire questo trend e offrire possibilità di sviluppo e di progresso in ogni direzione sociale, culturale e politico anche alle aree non urbane che soffrono di questo fenomeno. Kinesis è un progetto europeo di tre anni. Il progetto è in generale 2021 e l'ultimo 2023. Il progetto è concentrato sulle aree rinforzate e siamo qui, in Prigento, nel territorio dell'Unione dei Comuni delle Terre dell'Ufita, dove rinforzamento è un problema molto importante. Con il nostro progetto vogliamo provare soluzioni per stoppire il sviluppo e soprattutto vogliamo dare un messaggio alle giovani che questo posto è un posto bello, è worth vivere qui e perché puoi assicurare anche questo meraviglioso ambiente e una meravigliosa natura. Kinesis è una grande opportunità, è una grande vetrina internazionale per parlare di questi territori. Ci dà l'opportunità di riflettere, naturalmente, insieme su quelle che sono, come dire, le buone pratiche che possiamo mettere insieme, che possiamo mutuare sia dai partner stranieri e anche essi possono mutuare da noi. Noi ci aspettiamo molto e io ritengo che sia anche il momento opportuno perché ci sono anche le varie programmazioni europee che ci consentiranno di poter veramente accedere a finanziamenti importanti. Ed è quello che stiamo facendo ed è quello che Kinesis ci offre e mi auguro di poter, attraverso questo progetto, avere la possibilità di ricevere nuove proposte da poter mettere in campo per raggiungere obiettivi importanti per questo territorio. E noi ci crediamo, vogliamo realizzare un futuro sul territorio per i nostri figli che non devono emigrare per trovare la loro strada professionale e lavorativa. Quindi ho avuto il frizzetto perché Johanna mi invitata a venire il villaggio perché la popolazione, la gente, la gente, sono andata. Ho, io sono dell'Amstedamo, quindi, molti italiani vivono qui vivono. E io ho pensato, perché sono venire a noi? E loro vengono così bellissime due stessi qui, qui, qui. e volevo vedere se possiamo fare qualcosa con le persone, per vedere se possiamo aiutare qui. Quindi cinque anni dopo, siamo qui ora, e l'Europa pensava che sia importante per arrivare e fondare. Abbiamo qui con 13 partenari, da 5 paesi in Europa, e abbiamo i primi studenti. Quindi sono molto orgogliosi, perché ho cominciato con un'idea, 6 anni fa, e ho pensato, perché non senti studenti alle comunità in necessità. E finalmente, finalmente, è successo. Quindi è stata una buona settimana per me. E qui in Friigento è la mia 22e volta che ho visitato, quindi ho spavuto molti di loro tempo e fondamentale per fare questo. Quindi è un hobby per me, ma ho davvero piuttosto. So, I'm Daniela Chavarria. I arrived to Friigento 2 anni fa. I was the first student of the program. I did my internship in Friigento, because I studied rural development. And one of the things that made me fall in love with Friigento was the fact that I was able to see stuff that the community was overseeing, and help us to revitalize them. And that's where this project started. I think one of the most important things of this project is that we're giving the community the chance to speak their mind and to work with us for us to find together what is the solution for shrinking in villages such as Friigento. So it's not just us coming as an outsider, telling the community what to do, but it's the community also speaking for themselves. and that's very important. My name is Chantal van der Sluis. I'm a researcher at the Hansen University of Applied Sciences in Groningen in the Netherlands. And I will be living here in Friigento for a month or two, working on the evaluation of the project of Kinesis. But also we will start working on projects that students can do. Students from Italy, students from the Netherlands, students from Germany, Spain and Estonia, about shrinkage in Europe. Thanks so much! Thanks so much! Grazie. Grazie. Grazie.